Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il mood di Chanel Totti? Indifferenza. La figlia di Ilarie Blasi e Francesco Totti non risponde alle polemiche, anzi, ci scherza su. Su TikTok, pubblica un video in cui balla accanto al padre e in sottofondo c'è una canzone ritmata con la voce di Totti registrata che risponde. Il tutto mentre Chanel ballava accanto a Totti per poi abbracciarlo sorridente. Il rapporto stretto tra i due sembra essere sempre solido e, nonostante i tanti rumors, continua come prima. La ragazza è pronta ad uscire con un mood chiaro, divertirsi senza pensare ad altro. Che sia un volersi distaccare dalla situazione in corso dei genitori?